bella a tutti ragazzi sono da Mirko bentornati su gameplay channel e su Ranch Simulator allora ragazzi voglio ringraziare naturalmente gli sviluppatori per avermi mandato questo titolo che mi hanno mandato in realtà qualche giorno fa ma poi c'era l'embarco appunto per il 25 di febbraio ovvero quest'oggi quindi ve lo porto quest'oggi io purtroppo però non ho avuto assolutamente tempo di provarlo per cui lo proviamo insieme gioco che dovrebbe uscire i primi di marzo adesso non ricordo se il 3 o il 4 comunque insomma è un simulatore appunto di vita di un Ranch ci sarà l'allevamento ci sarà la caccia ci saranno un sacco di cose sembra piuttosto interessante vediamo un attimino come è fatto nelle opzioni vabbè io ho messo tutto su epico per quanto riguarda la grafica quindi andiamo a creare il nostro bel personaggino eccolo qua questo è il nostro personaggione possiamo mettere maschio fame beh i modelli cavolo non sono niente male sinceramente pensavo molto peggio pensavo veramente molto peggio vediamo un attimino di fare un personaggio un attimo ok tenendo premuto il tasto destro gli facciamo girare la testa va bene no pelato magari anche no è forse così è il meno peggio dai io direi di tenerlo assolutamente così vediamo se c'è una barba ecco così lo vogliamo bello bello barbone bello barbone direi che ci sta ma per il resto a me sinceramente va anche bene così massa muscolare lo facciamo bello grosso ok diciamo che facciamo no così è un po eccessivo diciamo che lo facciamo così perfetto stile stile schwarzenegger va bene va bene va bene dunque dunque io ho qualcosa per vediamo i vestiti barba incolta ah ok la possiamo fare più o meno ma sì lasciamola così no vabbè dai lasciamolo così lasciamolo così facciamo che salviamo questo nostro personaggio sì va bene abbiamo salvato confermi sì voglio confermare questo personaggio che va quindi al suo range ok gioco nuova partita quindi creiamo prima il personaggio ok poi iniziamo gioco è già tutto in italiano quindi questa è una cosa interessante compra un bidone per vendere il latte delle mucche all'emporio ok movimenti di base quella madonna aspetta ferma tutto c'è la sensibilità del mouse che che è mostruosa abbassiamola un botto perché ok proviamo così ok allora quindi abbassata ecca adesso è decisamente meglio la sensibilità del mouse spostati con vast va bene ci guardiamo intorno con il mouse ovviamente ok sì va bene ci guarda ci guardiamo attorno col mouse ci accovacciamo con la c saltiamo con backspace e con v cambiamo a visuale semplicemente destra o sinistra va bene va bene ti diamo benvenuto al range seguili con blu e leggi la lettera va bene sì possiamo ah no scusate entra ok perdono volevo tirar via per l'appunto il il menu ma non ho io la visuale in prima persona no pensavo ci fosse la visuale in prima persona invece con la v cambiamo semplicemente da destra a sinistra quindi un gioco in terza persona ero convinto in prima non so per quale motivo ma va bene va bene allora leggiamo la lettera se stai leggendo questa lettera significa che hai accettato di rispettare le mie ultime volontà lito nel nostro range di famiglia trascurato vabbè entra in casa ok il nonno ok questa volta il nonno di solito è lo zio che ci lascia le cose in eredità questa volta è il nonno va bene va bene con j apriamo il nostro diario diciamo così abbiamo la mappa stazione di servizio concessionario temporio ferramenta va bene qua ci sono le missioni qua ci sono le opzioni qua c'è il glossario va bene quindi possiamo cacciare abbiamo un ciclo giorno notte quindi possiamo dormire nelle tende insomma nei materassi abbiamo la costruzione la demolizione insomma tutte le varie cose che ormai ben conosciamo va bene accendi la radio sul muro ok e trova la tenda va bene abbiamo quindi questi due obiettivi come detto diciamo l'incipit della storia è sempre la solita cosa nulla di nuovo all'orizzonte ci viene lasciato una roba una catapecchia diciamo in eredità qua c'è a no che mi sembrava un'altra lettera invece il pacco di amazon ma poi lo apriremo poi lo apriremo va bene allora accendiamo la radio non si sente una mazza vabbè la radio io l'ho accesa anche se in realtà è come se non l'avessi fatto ma va bene allora vediamo di andare di qua e vediamo di trovare la tenda perfetto quindi tenendo premuto r salviamo il gioco va benissimo e qua possiamo dormire e salvare fino alla mattina madonna se proprio narcolettico boom è crollato è crollato di colpo va bene rimuovi l'ostacolo trova il baule al piano di sopra ok quindi qua iniziamo un attimino a diciamo utilizzare le cose per la demolizione quindi capiamo un attimino come penso dio mi son bagato una porta che come si fa a ristrutturare le varie cose ora vai al piano di sopra sarebbe interessante capire dove diamine sta la scala per poter andare al piano posso spaccare qualcosa no niente quella era una porta murata sì ma io come ci vado al piano di sopra scusatemi giovani cioè dovrei andare là sopra sì ma se non mi date una straca è qua la scala mortaci sua ok è un po' un casino tra le cose va bene anche perché se tutto rotto quindi insomma le text sono tutte molto simili tra di loro poi con questa carta da parati orribili a fiorellini dove cacchio sta il posto di qua ok allora per distruggere rimuovere gli oggetti selezionare la modalità demolizione va bene con tab apriamo apriamo le cose sì sì ma non ok così rimuovere no no non voglio demolire tutta la casa ok no aspetta ridammi la mano ecco grazie va bene qua c'è un altro materasso dove eventualmente possiamo riposare e qua troviamo i madonna santi sì ma fa meno un po' più alto il sottotetto però perché se devo passare qua scusa posso vabbè mi baggo comunque si gliccia tutta la visuale ma vabbè è una madonna pistola detto ok prendiamo la pistola prendiamo un po' di soldi abbiamo 500 dollari e leggiamo la lettera prendi questo revolver nella foresta ci sono tanti animali selvatici che ti potrebbero dare che potrebbero darti noia ti ho lasciato dei soldi delle munizioni un'altra cosa ti servirà un'auto nel garage all'entrata del range c'è un vecchio side by side usa i pensieri cambio che trovi qui per aggiustarlo buona fortuna grazie ma che è una caccia al tesoro alla fine ruote posti paraurti serbatoio carburante va bene va bene sì qua ci devo andare accucciato ma se salto di sotto no succede nulla non succede nulla de che va bene quindi quindi andiamo sotto posso saltare di qua mi spezzo le cosce no direi di no ok e usciamo dal range ora posso prendere la pistola miriamo così va bene ok quindi teniamo in mano teniamo in mano la pistola dobbiamo riparare l'auto qua abbiamo un po di cose allora qua abbiamo un sedile ok abbiamo r per ricaricare intanto ok va bene dammi la mano allora prendiamo il sedile iniziamo intanto a prendere il sedile qua che cacchio ah la gomma ok mi mica l'avevo vista allora vediamo di dare un occhio la madonna cioè questa sarebbe sarebbe un'auto questa sarebbe un'auto seriamente vabbè allora prendiamo questo ok e montiamolo va bene poi devo prendere una gomma mazza che gomme oh queste pro no pigliala in mano sta gomma ok vai mettiamo quella gomma e poi qua c'è qualcosa qua dentro glielo mettiamo giallo che è un'altra gomma e la andiamo a mettere vai due gomme le abbiamo allora andiamo qua sotto prendiamo l'altro sedile e lo andiamo a installare va bene boh butta sul sedile qua dovremmo voli mazza che volo io sono superman va bene dai mettiamo st'altra gomma e poi ci dovrebbero mancare ancora un altro paio di cosette e dovremmo aver finito allora installa la gomma si mi manca ancora una gomma e credo qualcos'altro che ok cos'è che abbiamo cos'è il serbatoio questo credo di sì allora serbatoio installa e mi manca una gomma credo mi manca una gomma che è qua ok vabbè che potevo aprire anche qua effettivamente così siamo già pronti a partire perfetto missione completata metti la tanica nel cassone va bene prendi l'oggetto tieni premuto per posizionarlo e poi ieri premi per confermare scori per ruotarlo va bene no aspetta allora raddrizzare l'auto tieni premuto era per raddrizzare l'auto che cacchio succede va bene ah no il destro ok pardon scusate va bene sì con la rotellina lo ruotiamo e col sinistro confermiamo va bene va bene a posto quindi entriamo nell'auto eh metti in moto accendiamo madonna che fare oh porca miseria va bene eh stazione di servizio raggiunta ok eh dove devo andare ah lassù ok dio santissimo quella madonna è difficilissima da guidare veramente difficilissima sembra una barca come tocco appena appena il destro e il sinistro se ne va per i cacchi suoi frena maronna è è un casino da da guidare ok spero che il sistema di guida lo migliorino un attimino perché effettivamente è abbastanza complesso eh il sistema di guida ma io posso tagliare semplicemente di qua ci andiamo una teco se qua passare il treno siamo morti ma va bene andiamoci un po alla vecchia maniera va ecco ops pardon pardon aia aia porca vacca l'albero da che c'è madonna è veramente un casino da guidare così eh è veramente veramente un casino io volevo un attimino tagliare per fare prima grazie ok però c'ha il raddrizzamento automatico praticamente dai 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 che ce la fai su ok vai tagliamo tanto è la jeep oh ce l'abbiamo fatta ok eh sì perché siamo a secco di benzina quindi mi sa che mi sa che dobbiamo fare un po di benza va bene oh piano madonna però no la guida anche perché accelera ma poi fa lo scatto cioè vedete non è eh è un casino è veramente un casino ok spegniamo ma perché sono accucciato alzati zio allora va bene prendiamo la pompa di carburante inseriamo perfetto allora abbiamo riempito la tanica molto carino che comunque abbiamo la cifra di quello che abbiamo speso cioè 40 dollarozzi quindi cosa molto carina tu rimetti qua vabbè non l'ho rimessa lì ma oddio ok il cavo è posseduto dal maligno eh va bene va bene nella tanica interagisci con la pompa ti servirà una tanica di carburante per il tuo range eh sì ah devo rifornire anche l'auto giustamente mi stavo a dimenticare dell'auto se no se no eh ci faccio poco con questa benzina che ho iniziamo a fare il pieno vedete che mi scendono i soldi in automatico e va bene questa è chiusa quindi ok mi riprende direttamente dalla carta di credito diciamo va bene va bene allora e andiamo a rimettere il pistolozzo lì parla col venditore di auto madonna il cavo è veramente posseduto dal demonio guarda cosa fa fermati cavo ah già la devo mettere in moto carino il fatto che c'è l'accensione comunque questa cosa mi piace ok si mi puoi magari se mi ruoti la telecamera indietro ok mi fai una santissima cortesia va bene eh sì le texture devo dire che nonostante sia tutto su epico sono sfocatissime come vedete a distanza di 3 metri e diventano più nitide vicino eh vabbè uscirà credo ovviamente in early access quindi insomma poi speriamo col tempo venga migliorato ovviamente tra i bug e quant'altro ammazza che jippona ma cioè veramente possiamo comprarci questa poi ciao venditore ti diamo il benvenuto qui puoi acquistare o personalizzare un'auto per tutti i nostri nuovi clienti installiamo lettori radio nei loro veicoli 4 ruote a soli 10 dollari ti basta parcheggiare bla 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 va bene va bene eh sali in auto parcheggia nell'auto officina ok eh vabbè grazie a ribaderci a ribaderci va bene qua direi che non ci interessa poi alla faccia del rivenditore di lusso qua nella campagna nella montagna anzi siamo praticamente in montagna eh va bene allora eh parcheggiamo quindi l'auto qua ah quindi qua possiamo anche personalizzarla diciamo che la facciamo rossa magari mettiamo la radio eh sì dai tanto abbiamo 433 dollari ne spendiamo 60 miglioriamo va bene esci grazie ok perfetto metti in moto con era accendiamo la radio ok parliamo con la venditrice quindi adesso dobbiamo andare di là va bene eh come detto ah musica classica ok eh come ho detto da quello che ho visto c'è anche il discorso dell'allevamento c'è il discorso del cacchio a merenda c'è il discorso del della caccia e ovviamente della ricostruzione del nostro range tipo Farmer Dynasty insomma eh non so come avviene la ristrutturazione del range io magari eh vi farò un gameplay un po' più lungo eh quindi taglierò poco e nulla perché eh diciamo che essendo un un video di scoperta eh quindi adesso per il momento ovviamente non c'è l'intenzione di fare una serie vera e propria per adesso eh diciamo vediamo un attimino com'è intanto là c'è uno stambecco che non se lo piglio sbum mazza oh è lo stambecco d'acciaio inossidabile va bene e quindi preferisco farvi magari un primo gameplay un po' più lungo dove vediamo un po' di cosine e poi eventualmente essendo unirli access adesso diamo magari anche la possibilità agli sviluppatori insomma di migliorarlo prima di prendere in considerazione un'eventuale serie quindi calcolate sempre che questi video sono semplicemente di scoperta ok ma se lascio acceso la radio si scarica batteria non credo eh non credo non credo sia così realistico allora ti diamo il benvenuto per fare un acquisto usa il terminale nella stanza qui accanto va bene bla 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 va bene insomma ok questo è il solito negoziante quindi npc e qua acquistiamo vedete che ci sono tutti gli animali quindi dobbiamo acquistare un piede di porco e questo me lo ricordo poi martello cestino delle uova e due polli martello cestino delle uova e due polli va bene ma mi mancava l'accetto ok scusate il rincoglionimento ok allora prendi oggetti quindi dobbiamo andare anche a caricare ecco se qua è chiuso non si può azze è venuta notte vabbè chiuso non si può uscire quindi ok accendiamo un attimo hociano sotto i polli che sono i miei e si ok ma io come li prendo oddio ma li posso caricare qua i polli stanno fermi pare di si ok i polli come vedete hanno le icone del cibo dell'acqua e quant'altro quindi avranno ovviamente bisogno diciamo di tutte le varie cose insomma quindi un po' come su farming ecco dobbiamo pensare ovviamente a dargli da mangiare dargli da bere insomma a fare tutto dove cacchio stanno le altre cose ma vaffanbagno sono sono dentro pensavo fossero qua dietro pensavo me le avesse messe qua fuori vabbè allora fermati un attimo scusate polli ma arrivo faiate pazienza al secondo allora quindi quindi andiamo a pigliare la roba allora dammi il cestino delle uova posso prendere anche il martello magari no assolutamente no o ne prendo uno o prendo l'altro ah no 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 me lo fa a prendere ok con la E dovevo semplicemente prenderli perfetto perfetto va bene e abbiamo fatto tutto riesco a uscire saltando no quindi usciamo di qua allora dai dai che sono saltato prima ole ok va bene scusate polli devo mettere un attimo questo vaffanbagno dai piglia sto coso allora perfetto quindi range aggiunto raggiunto ok pardon quindi torniamo al nostro range tranquille galline che con me alla guida vi potete fidare allora ok torno al range va bene polli tirati fuori sì ma dove li devo mettere di grazia se me lo dici ci vado già vicino con la macchina che sennò mi devo fare 8000 km vabbè penso sia comunque qua vicino ops ok allora va bene dai pigliamo un pollo e andiamo a metterlo credo qua allora ok questo è il pollaio qua dentro vediamo un attimo e ho capito ma se prendo questo ah è di qua ok vabbè dopo arrivo a pigliare il pollo ah lo dovevo semplicemente mettere per terra credo che credo di sì verse come faccio a versare un mangime sul punto indicato scusami F eh no no così me lo me lo lascia così sì se mi dici come diamine di un diamine si si rilascia il mangime magari mi fa anche una santa cortesia vabbè ripigliamo il nostro pollo venga pollo tanto sono i polli più bravi del mondo perché proprio tu li metti lì non si muovono sono addestrati sono i famosi polli addestrati e quindi forse perché manca il pollo devo mettere credo il pollo e poi forse posso versare giù il mangime quindi eh se miro il pollo no rilascia posiziona verse il mangime sul punto indicato qua è il punto indicato ho capito ma ah devo mettere madonna che casino ok devo praticamente metterlo a terra e poi una volta da terra premere la E tanto si poteva aprire anche lo sportellino che figata non l'avevo visto va bene to pollo sta lì andate a mangiare il mangime tanto quelli stanno lì sono sono assolutamente immobili va bene comunque il cibo glielo abbiamo dato spero poi che se lo vadano a mangiare andiamo a prendere un secchio ok e qua cosa dobbiamo prendere un altro secchio quindi serbatoio idrico devo installare questo nel range ma non ah così lo installo ma va a fanbagno ok va bene va bene ok perché c'è il tubo di qua e lo riempie direttamente va bene quindi in teoria basta no non devo fare nient'altro ok andiamo a trovare il tagliaerba che è qua ah bellino bellino sgommerà il cantiere erba tagliata alberi abbattuti ostacoli rimossi eh ok allora accendi i fari ah pure con la radio c'è tra l'altro bene bene ma è qui di taglio sto tagliando si si in teoria si ok va bene sto tagliando va bene lo facciamo di notte ma si potrei anche andare a dormire effettivamente potrei anche andare a dormire vediamo un attimo solo di andare a dormire un secondo così eh almeno facciamo venire giorno sennò veramente non si vede un cacchio di nulla ok oh perfetto perfetto così salviamo anche va bene va bene tira via la luce che non mi serve piove ancora questa mattina e va bene quindi intanto devo eh tagliare la mazza ho con un accettato e chi sei schwarzenegger va bene abbiamo tagliato l'albero abbattiamo l'albero ah e da qua possiamo anche prendere prendere le cose ok ma l'erba tagliata la devo tagliare qua mi dice solo qua ok si era giusto perfetto e mo devo costruire il pollaio ah ok adesso si spiega ok lascia qua il tagliaerba un attimo e va bene allora quindi su costruzione ah me lo dà in automatico pollaio piccolo oh perfetto dai costruisci ok ok va bene e abbiamo costruito il pollaio piccolo e ora a rigore di logica io potrei eh ad esempio iniziare a tirar via esatto la la spazzatura che abbiamo in giro così iniziamo a fare un po' di pulizia e praticamente andrà fatto così su tutte le cose su tutta la spazzatura che c'è in giro quindi qua dovrei poter demolire tutto e e poi andrà rifatto tu ammazza c'è un lavoraccio qua da fare c'è veramente un lavoraccio però allora eh il gioco di per sé potrebbe essere interessante bisogna poi naturalmente vedere come come si sviluppa dopo nel senso anche a livello di eh di survival tra virgolette perché comunque eh avremo anche degli animali da cacciare eh dovremmo credo eh insomma allevare ovviamente e penso anche coltivare perché comunque è un ranch quindi insomma dovremmo anche fare qualcosa per eh sopravvivere a livello economico quindi eh sicuramente avremo eh delle cose che ci permetteranno ci permetteranno di guadagnare qua ad esempio vedo una cariola non so se poi sarà eh utilizzabile insomma un po' di cosine come detto un po' di bug e di problemi abbiamo visto che ci sono ma eh ricordiamo è un early access ehm quindi quindi io per adesso inizio a fermarmi qua eh vi volevo proporre diciamo questa anteprima di questo di questo titolo che come detto uscirà eh fra qualche giorno fatemi sapere nel caso vi interessa magari ci faccio una live dove approfondiamo un po' di più eh tutte le meccaniche di giochi dove partiamo ovviamente direttamente da qua senza star lì a rifare tutto il tutorial quindi ragazzi mi raccomando come sempre lasciate un sacco un sacco di like condividete commentate iscrivetevi al canale se non siete iscritti iscrivetevi anche al canale di Twitch lo trovate qua sotto in descrizione per non perdervi nessuna delle mie live detto questo io vi saluto e noi ci rivecchiamo al prossimo gameplay ciao bello ciao bello